un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone sono cosimo mascolo sono un compositore e arrangiatore di brani musicali la musica è una mia passione un hobby non è la mia professione oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar ho 70 anni vivo in italia sulle dolomiti benenesi e precisamente in cadore un saluto